Un teatro che sorride per riportare normalità e positività a chi ha vissuto la tragedia del terremoto. Nasce con questo spirito, ripartiamo con un sorriso, rassegna di teatro ideata dai comitati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria della Federazione Italiana Teatro Amatori, FITA, che d'intesa con l'amministrazione comunale di Civitella del Tronto e con il sostegno della FITA nazionale hanno elaborato un cartellone estivo strapparisate di 27 date, tutte in ingresso libero, animate da 25 compagnie del territorio e con 7 località coinvolte fino al 13 di agosto. 7 in tutto le rappresentazioni che si terranno a Civitella del Tronto a partire dal 3 agosto. È un progetto di solidarietà dove hanno aderito tantissime compagnie teatrali, quindi approfitto veramente per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato perché senza il loro coinvolgimento questo progetto non si sarebbe potuto costruire. Quindi avremo la fortuna di poter avere a Civitella del Tronto come unica location in tutta la provincia di Teramo bene 7 rappresentazioni teatrali, dialettali e non. Ciò ci ha permesso di costruire, di mettere su un calendario veramente molto vari, molto ampio a livello culturale. Dopo i vari successi che abbiamo avuto quest'estate, dall'iniziativa enogastronomica, passando poi anche per il borgo di Birra, mostri in fortezza, concerti eccetera. Adesso ci ritroviamo ad affrontare un agosto, come dicevo, con un'offerta culturale, pensiamo, veramente molto più ampia. Abbiamo deciso di destinare i proventi che derivavano dal 5 per mille, di devolveri appunto questa iniziativa che ha la peculiarità di riuscire a portare, speriamo, perlomeno un sorriso, queste popolazioni che non hanno certamente, hanno avuto dei grossi problemi ultimamente. Quindi cerchiamo di essere vicini a loro con questa iniziativa. L'affitta su questo è estremamente sensibile perché, insomma, noi siamo la più grande federazione di teatro ammatoriale italiana, siamo 1.400 compagnie, 32.000 affiliati, quindi abbiamo una struttura piramidale che coinvolge tutte le regioni. Ho scelto Civitella perché ho visto che era proprio il centro del cratere dove è successo questa cosa. Ho visto pure che il comune non è più, diciamo, nel paese, l'hanno portato sotto. E facciamo queste, le compagnie si sono prestate proprio per rappresentare queste commedie, che sono commedie molto brillanti, proprio per portare un sorriso, come dice, che ripartiamo con un sorriso e saranno sette serate di teatro dialettari abruzziesi, che sono le migliori compagnie che vanno in giro, diciamo, in Abruzzo.